multato pesantemente non si sa di quanto però comunque la multa ci sta poi dicono che in realtà perché era il suo compleanno allora lui insisteva magari sarà anche per quello ci può anche stare però il secondo rigore secondo rigore dai forza spiegatelo il secondo rigore secondo la gazzetta tutti con l'allenatore tutti la società tutti con lui i giocatori devono cambiare marcia ci vuole più con la multa a Teo Hernandez se fa capire guardate che voi non siete sopra la società non va dei fenomeni tipo Leao e lo stesso Teo che cominciano un po' a rompermi le palle posso essere onesto? mi stanno cominciando a rompere le palle non si discute il talento ma hanno questi atteggiamenti e a volte e mi va e mi va e mi va a Teo Hernandez e a Di Marco ti ha superato da un bel pezzo ormai se tu continui così e lo dico da milanista non ti incazzare è rossonero come me perché non è vero vuoi dire il contrario che Di Marco è meno forte di Teo Hernandez sarà un annetto ormai che Di Marco è pari e adesso leggermente superiore non di troppo ma leggermente a bestia a voi in alto di 100 mila iscriviti attivate la campanella per ogni aggiornamento ma a parte questo questo è quello che riporta la Gazzetta volete sapere quello che riportano tutti gli altri quotidiani invece Libero il giornale tutti bloccato Sarri perché? chiede Edro a Fonseca il mare normale allora io sono per Fonseca io sono con lui perché ha fatto vedere le palle così e ha fatto vedere che ci tiene davvero e che comunque ha delle idee tattiche che ci sono e come che ha pioli ma manco per l'anticamera del cervello oppure sì ma aveva paura di farlo non sai che invece non ha mostrato di aver paura col 4-2-4 però quelle parole riguardo i rigoristi nel post-Fiorentina Milan hanno fatto un po' capire da tutti che non ha in pugno la situazione e che i giocatori non lo seguono quindi nel frattempo dicono intanto vediamo un po' che succede vediamo alla ripresa se continua così saremo costretti a cambiare perciò secondo Libro e tante altre fonti Fonseca out e dentro Sarri ma subito in realtà sta cosa bisogna bisogna dicono farlo prima ma quando ma adesso è cominciato il campionato e la stagione lo so sono 4 sconfitte fanno male ma io ragazzi se vedete vi dico io sto con Fonseca se dovesse arrivare Sarri o Allegri ancora meglio ma Sarri a me non mi dispiace è perfetta sta squadra per lui ma siamo sicuri che sia l'allenatore il problema cioè ragazzi non è che i giocatori sono te Krunic l'anno scorso Rebic stanno anche Teo Lea c'è qualcuno che qualche mera marcia e Fonseca la mera marcia ne crede proprio a sto punto comincia a pensarla da avere voi che ne pensate grazie a te grazie a te